Fanno parte del secondo d'asse d'azione i progetti quali Like e Malabarca, anche se sono due segmenti un po' diversi. In tutto ci sono ben 26 progetti distribuiti in tre bandi. Partiamo con Like, il cui nome gioca con questa parola molto moderna oggi sui social, ma che in realtà significa Living on the Karst Edge, vivere sul Ciglione Carsico. Prima di parlarne però vediamo un servizio. Ospo è un piccolo borgo che si trova ai margini del Ciglione Carsico. È una meta molto frequentata dagli escursionisti, specie dagli amanti della roccia. È però un'area delicata e come tale è stata inserita negli interventi previsti dal progetto Like. Acronimo di Living on the Karst Edge, vivere sul Ciglione Carsico. Per l'ente per la protezione dell'ambiente, obiettivo del progetto è individuare dei meccanismi permanenti di gestione dell'area per poter soddisfare le esigenze di chi utilizza questo spazio, sia gli abitanti che i visitatori occasionali. E questo tutelando l'ambiente, l'habitat naturale e le specie. Infatti l'area del Ciglione Carsico è importante e perciò fa parte di Natura 2000. L'area è visitata da tante persone provenienti da entrambe le parti del confine. È così, vengono sia sloveni che croati, ma anche altri stranieri visitano volentieri l'area, molto apprezzata dagli scalatori, da chi fa trekking, dai ciclisti. È una zona molto frequentata da tante persone. Quali sono le maggiori minacce? Ad essere minacciati sono gli uccelli che vivono in parete e in genere l'intero habitat che interessa le pareti rocciose. Le minacce vengono dagli scalatori, dai frequentatori dei sentieri, dai ciclisti. Il grosso problema è che il tutto avviene senza regole e dappertutto. Per proteggere la natura vanno definite le aree di utilizzo, ossia cosa si può e cosa invece non si può fare in un determinato luogo. Tutto ciò per tutelare l'area nel modo desiderato. Questo progetto nasce da particolari esigenze. Oltre a quelle che sono state spiegate nel servizio, partono da una situazione concreta. Anche possiamo parlare di degrado. Cosa succedeva prima a OSPO e cosa non dovrebbe succedere dopo il progetto? Grazie al progetto. Quando siamo partiti con l'idea progettuale siamo stati coinvolti dalla regione estriana, infatti alla quale ringrazio perché comunque loro sono capofila del progetto. Però abbiamo avuto già prima delle esperienze molto positive, perciò insomma abbiamo accettato molto volentieri di participare nelle concrete azioni, specialmente nelle locali di OSPO. Diciamo che gli abitanti di OSPO avevano veramente dei problemi quotidiani scontrandosi persino con tutti questi turisti e escursionisti che si trovavano, insomma venivano molto volentieri a trovare quest'area. L'area è molto molto bella, interessante, però i problemi reali ci sono e speriamo che il progetto poi aiuti in modo che i problemi man mano non abbiano più questa importanza. E avete messo anche proprio delle regole concrete? Sì, abbiamo messo delle regole molto molto concrete per quanto riguarda cosa si può fare in quest'area molto delicata e cosa non si può fare. E specialmente poi anche stabilire periodi nei quali si può scalare per non intaccare o insomma far scappare via gli uccelli che nidificano su quest'area rocciosa. Oppure nel senso ci sono i ciclisti che oggigiorno scendono con le mountain bike sulle piste non sicure passando sui terreni degli agricoltori, magari non so, mentre questi hanno aperto le reti per accogliere gli olivi che può essere molto molto pericolosa anche per gli escursionisti stessi che non si rendono conto della pericolosità. di alcune azioni che fanno. Insomma perciò abbiamo messo delle regole, le abbiamo scritte sulla cartellonistica. E avete allestito anche di ampi parcheggi così non c'è anche un'invasione tra le case e delle automobili? Sì, abbiamo cercato di farlo sia in modo molto concreto creando un parcheggio di 46 posti era purtroppo l'unica area disponibile dove si poteva fare attualmente. Ovvio il nostro desiderio è di ampiare questi spazi anche nelle altre aree, sia di OSPO, ma insomma l'obiettivo è proprio di cercare di indirezzare questi escursionisti, specialmente scalatori, anche a lungo tutto il ciglione carsico che va anche verso la regione istriana. Diciamo che l'obiettivo è di trovare un equilibrio tra la protezione dell'ambiente naturale, la natura stessa e diciamo l'offerta turistica di qualità. E infatti stiamo vedendo proprio le immagini della zona e dei parcheggi allestiti.